La caduta verticale dei prestiti subita negli ultimi 12 anni dalle aziende della nostra regione è anche riconducibile alla scomparsa di molti istituti di credito che per decenni hanno dominato la scena creditizia del nostro territorio, come le casse di risparmio, Veneto Banca, la Popolare di Vicenza e Anton Veneta. Nell'ultimo anno gli impieghi vivi alle imprese venete sono diminuiti del 7,2%, con un picco in provincia di Verona del meno 11%. Continua pertanto la riduzione dei prestiti bancari alle aziende venete, così come in buona parte del paese. Secondo l'ufficio studi della CGA, questo trend rischia di alimentare indirettamente un fenomeno preoccupante, che ormai non riguarda solo le regioni del sud, ma anche quelle del nord. La presenza sempre più diffusa nell'economia reale delle organizzazioni criminali. In questi momenti così particolari, infatti, sono gli unici soggetti che dispongono della liquidità necessaria per aiutare chi si trova in difficoltà economico-finanziaria, in particolare nei settori ad alta intensità di contante, come ristorazione, intrattenimento o sale giochi, in quelli che richiedono il controllo del territorio, l'edilizia e nei comparti meno innovativi che non richiedono invece competenze specialistiche. Nei territori dove il numero di denunce all'autorità giudiziaria per estorsione, racket, usura, contraffazione, lavoro nero, gestione illecita del ciclo dei rifiuti o scommesse clandestine, è molto alta la probabilità che vi sia una presenza radicata e diffusa di una o più organizzazioni criminali di stampo mafioso. Se vogliamo evitare che molte piccole imprese a corto di liquidità finiscano nella rete delle organizzazioni criminali che in questi momenti sono sempre pronte ad aiutare chi si trova in difficoltà, bisogna rifinanziare il fondo di garanzia che durante il periodo del Covid ha contribuito a evitare la chiusura di tantissime realtà economiche, soprattutto di piccola e piccolissima dimensione.